beh alzi la mano chi non sa che cos'è spotify anche se non lo usate direttamente sapete benissimo che cos'è spotify la piattaforma ad oggi numero uno per ascoltare musica per ascoltare podcast per ascoltare la radio e tantissime altre cose io stesso sono un abbonato da spotify praticamente da anni non la cambierei per nulla al mondo non mi sta pagando per questo video ma soprattutto oggi diamo una chiave di lettura diversa spotify perché spotify da qualche mese ha lanciato il proprio programma di advertising vale a dire che ad oggi hai un pubblico che è pronto ad ascoltarti su spotify e se vuoi sapere di che cosa si tratta come funziona con una visione dall'alto e magari poi scenderemo con dei video in modo verticale più dettagliati che arriveranno sul canale beh quello che devi fare è assolutamente iscriverti ora a questo canale lasciare un bel like sul pulsante appunto così e scrivere nei commenti alle altri video e te li porterò sicuramente oggi il mio obiettivo è introdurti all'interno di questa nuova piattaforma di advertising dedicata a persone che ascoltano e ci sono degli spunti dal mio punto di vista molto interessanti da cogliere ma dove si svolge questa piattaforma di advertising e perché è molto interessante spotify lo conosciamo tutti ripeto magari non siamo degli abbonati diretti ma sappiamo sia perché ormai artisti cantanti podcaster promuovono il proprio spotify sappiamo che è una piattaforma accessibile a chiunque con un abbonamento un piano gratuito ovviamente limitato rispetto all'abbonamento a pagamento ma è la piattaforma dove noi andiamo per ascoltare appunto il nostro podcast preferito i nostri brani eccetera 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 e diventa una piattaforma molto espansa a livello statistico oggi gli utenti di spotify sono veramente tantissimi anche nel nostro paese sia perché l'abbonamento è accessibile a chiunque sia perché è stata una delle prime piattaforme praticamente ad espandersi a risolvere questo problema se vogliamo molto sentito della pirateria infatti chiunque appunto può accedere a spotify ascoltare i brani che preferisce in modo molto lecito quindi senza dover ricorrere a modi illeciti la libreria è super importante e tra l'altro su spotify ci sono veramente non solo tantissimi artisti per quello che è il ramo musicale ma davvero tantissimi podcaster che trasmettono il proprio podcast su spotify sicuramente magari ti è capitato di ascoltarne uno piuttosto che vedere appunto il tuo guru di riferimento il tuo mentore o lo youtuber che ti piace ascoltarlo e vederlo su spotify e spotify ovviamente ha pensato bene di monetizzare il tutto tutto questo non solamente attraverso gli abbonamenti che ripeto sono la forma per essere illimitati su spotify altrimenti c'è un piano gratuito che prevede i passaggi pubblicitari e altri altri limiti ai quali ti rimando se vuoi saperne di più sul sito assolutamente spotify non mi sta pagando per questo video e non è un video conoscitivo di spotify ma è focalizzato su spotify advertising la cosa interessante di spotify advertising oltre la sua copertura macchia d'olio anche nel territorio italiano è che si indirizza un pubblico se vogliamo completamente opposto a youtube allora su youtube noi troviamo un pubblico se ci pensate anche lato advertising ma proprio anche lato utente abituato a guardare video su youtube noi tra virgolette non ci pensiamo troppo se il video ci interessa di quanto dura per esempio ieri sera mi è capitato di guardare un video molto interessante di 38 minuti e vi assicuro che l'ho guardato tutto dall'inizio alla fine altre volte magari mi capita di consumare come utente dei video di 3 4 minuti o anche 15 quindi su youtube non mi concentro tantissimo sulla durata del video bensì piuttosto sul quello che il video ha da comunicarmi no quello che il video mi insegna però è una piattaforma legata proprio ai video è la nuova tv io l'ho sempre chiamata così e sono un forte sostenitore di questo per quello che riguarda youtube beh spotify invece come se fosse l'altra faccia della stessa medaglia su youtube ho un pubblico abituato a guardare video del quale è veramente coinvolto lo può guardare dappertutto dalla playstation alla tv dal cellulare al computer su spotify o l'altro pubblico quel pubblico che non guarda ma attenzione ascolta e infatti ascolta musica ascolta radio ascolta podcast e quindi potremmo dire che spotify forse è un po' azzardata come come parola è come se fosse una sorta di nuova radio no se youtube sta la nuova tv spotify sta la nuova radio sapete che cerco sempre di usare un lessico molto semplice perché so che molti di voi che mi seguono stanno muovendo adesso i primi passi nel mondo dell'advertising online si stanno chiedendo come fare pubblicità come raggiungere altri clienti quindi cerco sempre di avere un lessico molto semplice e appunto all'interno di tutte queste piattaforme pubblicitarie che stanno nascendo e che sono sempre di più si colloca anche spotify advertising che ha questa fortissima premessa questo fortissimo payoff di dire i tuoi nuovi clienti sono qui per ascoltarti ed effettivamente noi su spotify abbiamo la possibilità di occupare dei passaggi audio all'interno delle programmazioni quindi immaginate andate a registrare uno spot audio quindi ad esempio ciao sono alle lorenzi ho un podcast qui su spotify cerca alle lorenzi su spotify segui il mio podcast ok quindi vedete molto semplice ovviamente questo può diventare un advertising quindi una campagna pubblicitaria dove le persone quando mi ascoltano sono magari interessate se ovviamente crea uno script ovvero un copy che vado a recitare per invogliarle vanno a cercare il mio nome vanno a cercare il mio podcast o la mia realtà e quindi vengono diciamo racchiuse in questo mondo e si muovono all'interno di spotify molto interessante perché perché appunto spotify è la piattaforma numero uno per eccellenza di ascolto passivo vale a dire le persone stanno lavorando stanno chiacchierando e ascoltano la musica e ascoltano il podcast pensate a quante persone mentre guidano ad esempio ascoltano podcast per rimanere informati e voi avete la possibilità in verticale attraverso le spotify advertising di andarli a raggiungerle farvi conoscere e incuriosirle ovviamente abbiamo come unico strumento non sto parlando di targetizzazione di pubblico quello magari lo vedremo in dei video dedicati qui voglio farvi una sorta di cappello introduttivo legato al mondo di spotify advertising perché magari molti di voi nemmeno lo conoscono nemmeno sapevano che c'era questa opportunità ok però proviamo per un attimo a immaginare quanto diventa importante la nostra voce quanto diventa importante il voice over o comunque anche lo script di quello che stiamo andando a dire ragionateci un attimo insieme a me se nelle youtube advertising al di là del targeting eccetera eccetera il contenuto video è veramente fondamentale perché è il veicolo per farci conoscere il veicolo per raggiungere la persona dall'altra parte su spotify advertising beh il veicolo è la voce è quello che noi abbiamo da dire perché le persone non hanno nient'altro di nostro come riferimento immaginate la persona che sta guidando sta ascoltando un podcast boom gli esce alle lorenzi con il suo script che gli dice ciao sono alle lorenzi ho creato un podcast dove parlo di advertising media buyer crescita personale e business online se vuoi seguirmi cerca alle lorenzi qui su spotify capite che mi entro in verticale nella sua attività mentre lui sta ascoltando e gli unici riferimenti che ha quali sono beh la mia voce se sono una persona magari esposta un guru importante un personaggio famoso ad esempio la mia voce potrebbe farmi riconoscere immediatamente viceversa se invece non sono così esposto o uso ad esempio la voce di un doppiatore che tra l'altro in alcuni casi vi consiglierei ma vediamolo in alcuni video e trovate sul canale anche come io scelgo ad esempio i voice over per i video che vado a realizzare no la voce è importante perché ovviamente traspare emozione traspare coinvolgimento e guida effettivamente la persona a fare quello che deve fare beh oltre alla voce appunto la seconda cosa fondamentale è quello che avete da dire perché oltre la voce che viene utilizzata qui lo script diventa fondamentale se ci pensate è un po come il video per le youtube ads va bene il video stesso come confezionato e tutto quanto che potrebbe essere rapportato alla voce su spotify per quanto abbiamo la voce anche sul video e occupa comunque un ruolo importantissimo la voce non sottovalutatela mai perché veramente il narratore che prende la persona dal punto a al punto b è la voce provate a pensare quante volte vi siete emozionati davanti a una canzone quante volte vi siete emozionati davanti a un film non solo per quello che c'era da dire ma per come veniva detto questa è una riflessione che vi invito a fare se volete adentrarvi nel mondo delle spotify ads mondo dello spotify advertising ma poi il fulcro anche l'altro l'altra pedina del nostro domino è sicuramente quello che abbiamo da dire quindi lo script è importante perché perché la nostra pubblicità su spotify si intromette in senso buono mentre la persona sta facendo altro quindi uno spot semplice ciao sono ale lorenzi seguimi potrebbe interessargli come no perché di fatto non gli ho detto assolutamente nulla a meno che io non sia magari che ne so will smith ti sto annunciando che sono qui anche su spotify ma tutto il mondo sa chi è will smith ok se invece stiamo usando spotify perché vogliamo affermarci online perché abbiamo un'attività locale piuttosto che altro e vogliamo farci conoscere dobbiamo essere molto chiari in quello che andremo a dirgli perché lui non ha nessun altro riferimento oltre la nostra voce o la voce che andiamo a utilizzare quindi diventa fondamentale essere chiari avere uno script che guida letteralmente la persona e che la sposta verticalmente verso il suo obiettivo beh se volete registrerò altri video in verticale sullo spotify advertising e attenzione spotify advertising da anche la possibilità di integrare dei video che è come youtube sono dei video se vogliamo più brevi più piccoli ma dovete sempre tenere a mente che l'utente di spotify è abituato ad ascoltare quindi indubbiamente uno spot audio è sicuramente più predisposto per la macchina di spotify ma è bene che sappiate che potete raggiungere gli utenti anche con dei micro video che magari vedremo in video molto verticali però il mio focus quello che vi consiglio di fare se volete abbracciare questo mondo dello spotify advertising è di ragionare in qualità di audio quindi la voce se volete usare la vostra o quella di un voiceover professionista e un doppiatore professionista e lo script quindi quello che c'è da dire ok è chiaro che potete usare anche un mini video eccetera eccetera ma il pubblico di spotify ragazzi è abituato ad ascoltare quindi cavalchiamo l'onda di spotify no quelle che sono le linee guida la struttura l'infrastruttura di spotify stessa questo è un video chiaramente introduttivo legato allo spotify advertising che è una risorsa dal mio punto di vista interessante e come vi dissi già in un video che vi invito a guardare dopo questo che trovate ovviamente qui sul canale nel 2022 è importante avere multi piattaforme di traffico non avere solo facebook solo youtube eccetera eccetera ma cercare di inseguire l'utente multi piattaforma perché l'utente è sempre più distratto perché ci sono sempre più attrazioni cose interessanti notizie eccetera eccetera che lo discostano un po da voi e quindi se voi riuscite chiaramente a inseguirlo in più piattaforme questo diventa molto più interessante ma anche se volete poi coinvolgente l'utente vi cerca su google vi trova con la campagna vi cerca su youtube gli uscite sta navigando su tiktok gli uscite sta ascoltando un podcast lo raggiungete capite che diventa anche una copertura mediatica in termini di advertising davvero davvero interessante quindi perché no perché non coinvolgere una piattaforma che è basata principalmente sull'audio ed è una piattaforma che ragazzi in italia è una copertura pazzesca se volete porterò altri video vi faccio vedere anche come lancio alcune campagnette fatemelo sapere dalle lorenzi tutto ci vediamo nel prossimo video ciao